bella gente benvenuti nel mio canale oggi facciamo un mega video parliamo di bobcat questo è il bobcat di double e questo è il bobcat di jdm guardate sono identici all'unica differenza il bobcat di double e viene fornito senza luci e senza bippe di retromarcia il bobcat di jdm viene fornito con le luci già installate e il bip di retromarcia ma il prodotto è identico è lo stesso fornitore e c'è un bel risparmio perché su double e risparmiamo 400 dollari all'incirca ora ve lo faccio vedere in azione questa è la radio fly sky la classica fly sky che già conoscete che si trova su tutti i modelli rc abbiamo la pompa su due velocità questa è la trazione dei cingoli sugli stick destro e sinistro ogni cingolo su ogni stick c'è un cingolo il movimento del braccio è sullo stick di destra la benna è sullo stick di sinistra devo dire veramente che sono dei modelli eccezionali giustamente molto particolari perché non non si non se ne vedono tantissimi sul web ora vi faccio vedere il bobcat gommato di double e sempre che questa è una vera chicca eccolo qua guardate che meraviglia questo anche alla pompa su due velocità l'idraulica è spettacolare devo dire un po veloce però veramente un bel modello un modello veramente divertente poi la bellezza di questi modelli è che ve li potete portare ovunque anche perché non avete il problema per esempio di portarvi una bestiaccia come questa dietro che pesa 24 kg la bellezza di questo è proprio di questi modelli piccoli è proprio questo l'unica cosa che vi posso dire è che tornando al modello bobcat cingolato della gdm quando mi è arrivato mi ha dato un sacco di problemi però adesso valutando sono stato sfortunato infatti l'ho dovuto dare ai recci special equipment per sistemarmi un po l'idraulica adesso funziona però non va come dovrebbe andare qualche problemino ce l'ha io non sono soddisfatto diciamo i modelli cerco sempre di estremizzare e di farli al top quindi sicuramente verrà modificato adesso poi studieremo qualcosa insieme a lui lui ha un sacco di idee quindi poi vedremo niente spero che il video vi sia piaciuto spero che il video vi sia d'aiuto per prossimi acquisti andate sul sito jk rc focus store e trovate tutti questi prodotti anche la pala anche lì c'è la pala grazie per la visione del video spero vi sia piaciuto alla prossima